Grazie Presidente. Ricevo dal consigliere di minoranza del Comune di Bacoli, Giosi della Ragione, e vi leggo. Prendiamo atto del pentimento del bossi Bacoli Rosario Pariante. Auspichiamo che questo possa contribuire ad accelerare le indagini portate avanti per Bacoli, dalla Procura Antimafia, circa l'ipotesi di reato di voto di scambio. La DDA, così come documentato dal gruppo di Fribacoli dal 2011, indaga sulla poco chiara gestione amministrativa del centro ittico campano S.P.A. di proprietà del Comune. Sempre a Bacoli, indagini della Procura di Napoli hanno riguardato la presunta gestione criminale del porto di Baia e le elezioni comunali del 2002 e del 2010. Da troppi anni la politica flegrea è vessata da scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni camorristiche, Vedi Pozzuoli, Quarto Giuliano, e l'anno prossimo si tornerà a votare in molti di questi comuni. Anche per questo chiediamo l'interessamento della Commissione Antimafia, affinché venga ripristinata una serenità ed agibilità politica ed elettorale. Grazie. Grazie.